Presentato in Regione è il sistema di incubatori con cui vengono messi a disposizione 50 spazi per le diverse attività e che favorisce e sostiene iniziative e progetti di impresa nell'ambito della creatività, della green economy e delle biotecnologie e che punta a valorizzare le potenzialità di giovani ricercatori, favorendo l'occupazione e rinforzando l'economia locale. Nuove imprese in settori che consideriamo tra i più promettenti nei prossimi anni, quali sono quelle della green economy, quelle delle biotecnologie e quella della creatività della cultura e del turismo. Matera, Metapontino, Val d'Agri sono tre sedi emblematiche anche per le implicazioni e anche per le opportunità che in quei territori si possono sicuramente rilevare in questi tre settori. Inoltre le imprese e i privati saranno sostenuti da una rete integrata che è stata voluta proprio per rendere il sistema dell'incubazione ancora più efficiente. All'interno degli incubatori noi ospiteremo tutti coloro che vogliono fare impresa e che hanno delle idee, speriamo, quanto più innovative possibile.